Il termine di cura è una cosa che hai detto, si è studiato con il personale sanitario, poi i tagli che sono stati fatti alla sanità nei miei precedenti, che è il meglio? Io credo che il codice abbia insegnato l'incidenza della sanità, ma anche abbiamo insegnato che non si deve tagliare sulla sanità, e sulla sanità hanno tagliato tutti, tutti i partiti da destra a sinistra nella storia. Noi non lo dobbiamo più fare, soprattutto non dobbiamo mortificare il nostro personale. Si è bloccato il turnover, vuol dire che andava uno in pensione e non lo si sostituiva. Vuol dire che non si è curata la gratificazione morale e etica che noi dobbiamo dare ai nostri operatori sanitariosi e ai nostri ordinari. La carenza di dodici veramente incide, noi in questo momento stiamo subito a compensare e quindi continuiamo a fare quell'inchecone da 12 giorni, ma noi domani mattina sarò da generare più in loro e proprio chiedere di più, perché più dosi abbiamo, più più monto vaccino. vediamo assiamente il mantenimento delle nostre taglie, tra 37 e 38 mila inopulazioni al giorno e questo è l'obiettivo per arrivare alla fine del mese di agosto a aver superato 5 milioni e mezzo di euro inopulato. Naturalmente se c'erano di più, lo facciamo prima, perché la nostra potenzialità è di 50 mila. Grazie.